Cin Cin con le Kessler, la sera di Capodanno al Teatro Marchesa. Esatto, ormai sono otto anni, è diventata una tradizione qua nel quartiere di Barriera di Milano, tra un varietà, una commedia musicale, trascorriamo il Capodanno con diversi abitanti del quartiere che sono ormai diventati affezionati, cioè ai primi di novembre c'è già tutto l'esaurito dei posti. E' organizzato dall'Araba Fenice, dall'associazione? Sì, in compagnia di Marco Cosenza che è anche coreografo della compagnia di cui ballerà nel corpo di ballo oltre a fare anche lui delle scenette di cabaret, insieme a Giulia Calcina che è una delle due principali protagoniste quest'anno dello spettacolo e interpreterà una delle due sorelle Kessler. Quindi avremo anche del cabaret in questa serata? Esatto, sì, ci saranno all'interno della serata delle scenette appunto comiche per rendere lo spettacolo brillante e piacevole per il pubblico. Da chi hai preso ispirazione per questo format di cabaret? Se hai preso ispirazione da qualcuno? Sì, ci sono vari attori anche televisivi da cui prendo ispirazione, tipo Paolo Villaggio, insomma delle loro scenette comiche, le abbiamo portate appunto anche su palco e quindi mi ispiro a loro. Tu crei il testi da solo oppure hai qualcuno che lo fa per te? Ci sono dei testi che sono creati appunto da mio papà René che durante anche gli anni di villaggio turistico ha creato e così noi portiamo avanti questa tradizione. Ecco, quindi un po' tutto in famiglia per così rendere piacevole la sera di Capodanno per gli abitanti di Barriere di Milano. Esatto, il C5 alle Kessler è una parodia, una rivisitazione dello spettacolo Studio 1, uno delle prime varietà della RAI condotto da Amina e da lì abbiamo preso spunto da questa varietà, l'abbiamo riaggiornato ai giorni nostri con due Kessler che balleranno il loro repertorio, quindi Giulia Calcina e Lucrezia Seminara, addirittura portando le giorni nostre con tanto di punte. Grazie. Grazie.